Per la Nandoverga, un bravo! Per i Montferrati, fin! Per i Montferrati, fin! Per i Montferrati, fin! Vieni qua! Guarda! Per i Montferrati! Rasage! Pura! Grazie! Meno! 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 Indietro, indietro! Buono! Meno! Cosmin! 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 di mani fuori. ogni tanto una palla rotonda si, si, tutto a posto vieni, andiamo in questo campo va bene, fede, il pallone anche perché adesso, grazie a Dio dai Giovannino, andiamo a giocare di là, dai eh dai, dai, dai dai Stefano, aspetta giù, aspetta giù, guarda giù dai Alex stai più largo, quattro, quattro a lui cino, cino bene, 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 bene dai, dai, dai c'è Igor, c'è Igor c'è Igor mi vogliamo di là si, Gio, Tommy, siamo, è Osa, è Osa, è Osa è Osa, sei troppo distante, fede, occhio passi via, siamo in attacco, stai qui, stai qui, stai qui via via aspetta 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 fuori 4, vieni su là da 4 da profondo, Igor partivina, partivina con lui muovi Paolo e la devi dare prima non sulla riga di tusce passi venga via aspetta aspetta fuori dai ragazzi fuori non 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 ci non 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 lo ce vediamo andiamo verdi dai siamo attenti non buttiamo il pallone è oro è oro è oro è oro forza 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 uccidio uomo uccidio uomo PAURO! Grazie. Grazie. Forziamo un po' di più, forziamo un po' di più. Enrico. Veno. Veno. Cinque metri. Veno. 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 Ho che la chiusa, Iacchi. Dignelo. Veno. La chiusa. Veno. Alec. Veno. Alec. Veno. 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 Alec. Alec. Quattro. Guarda la sua ala dov'è. Grazie. Fa la guardare davanti. Diamo un colpo d'occhio. guardiamo quello che succede avanti. Dai. Guarda dove c'è il piede. 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 Dai 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 dai. Vecisci. 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 Quattro. Quattro. Guarda avanti. Quattro. Allargati quattro. Allargati. Basti. Allargati. видите. Allargati. Non si muapore ci non body info. Guarda. Guarda. Guarda non charge. Vedete. Guarda ma non charge. Guarda la mia salita. Guarda. Guarda o c'è il piede. Guarda sì. Guarda bene. Guarda. Guarda la salita. guarda dov'è la sua e glielo dice anche a Rina di stare piazzo Rina non serve stare piazzo Rina proponi Pierina eh Mori le mani dai eh Mori le mani dai eh Rina Oscar Passi Rina 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 antiretica Rina 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 Grazie a tutti. 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 , grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.